Ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti su Lele King TV e con questo nuovo video Allora ragazzi, qui andiamo a spiegare come giocare nella modalità del gioco di carte di Atrean XL 2022-2023 alla modalità calci di rigore Allora, ogni giocatore deve scegliere una carta portiere, una sola, tra quelle base e quelle speciali quella che vuole, basta che è una card portiere e 5 tiratori, 5 carte Logicamente tutto deve essere segreto, tutto deve essere coperto Allora, potete mettere poi le 5 carte tiratore così in fila o altrimenti potreste anche schierarle in questo modo 1, 2, 3, 4 e 5 Ok, come preferite ragazzi Io le lascio così per comodità di video Ok? Quindi, che succede? Quando avete scelto tutte le carte potete girare le carte portiere che ci servono molto Allora, le carte portiere, io adesso qui ho scelto un portiere che è Shestini e una carta base portiere che è Rui Patricio Allora, il portiere come vedete qui ci sono dei puntini, quelli bianchi sono l'area di parate Come vedete qui Rui Patricio ha un buon margine di parata Meno che qui ai lati, che sono quelle più difficili da parare Ok? Quindi dovete scegliere uno, il portiere con il campo, la porta più coperta possibile e soprattutto con i lati più coperti possibili E qui lui Patricio un pochettino ci delude e soprattutto perché i quattro angoli sono scoperti e come vedete non è del tutto coperto Però ci sono sicuramente carte molto molto più scarse di questa Da quest'altra parte abbiamo Shestini, Shestini ha quasi tutta la porta coperta e anche molti lati Ha soltanto il lato in alto a sinistra e il lato in basso a sinistra scoperti Ok? E qui una centrale a destra Quindi sicuramente il portiere migliore è Shestini Adesso bisogna vedere però se sarà così, se veramente vincerà la squadra che ha scelto Shestini o quella che ha scelto Rui Patricio Comunque ragazzi più che altro è per spiegarvi come giocare Ok? Allora dopo la scelta del portiere che deve rimanere segreta fino a questo momento Finché non si scelgono tutte e cinque le carte e si mettono in ordine Si inizia a giocare Ok? Si decide chi vuole iniziare con la classica monetina o in altri modi Iniziato questo inizia, facciamo finta che ha vinto il turno la squadra di destra Quella con il portiere Rui Patricio Giriamo la carta del primo tiratore E come vedete qui Castrovilli il calcio di rigore lo tira qui Il punto di tiro di Castrovilli è questo qui, questo puntino bianco Allora dobbiamo confrontarlo con il portiere dell'altra squadra E come vediamo quel puntino lì è coperto da Shestini Quindi significa che Shestini ha parato il rigore Quindi primo rigore per la squadra di destra Arrivederci e grazie, è andato male Adesso tocca all'altra squadra Qui abbiamo Brian Diaz che come tira, come area di tiro ha quest'area qui Prendiamo il portiere Rui Patricio e andiamo a vedere che quell'area lì, Rui Patricio, la copre Quindi significa che anche Brian Diaz non ha segnato E il rigore è stato parato o ha preso il palo o ha tirato fuori Comunque i primi due rigori sono andati e sono stati parati entrambi Giriamo ancora la carta Qui abbiamo Jovic della Fiorentina La sua area di tiro come vedete è questa Quindi il portiere avversario che è Shestini In quest'area qui copre il tiro di Jovic Quindi anche in questo caso ci troviamo davanti a un rigore parato Quindi stiamo ancora sullo 0-0 Due rigori tirati per la squadra di destra Entrambi parati Adesso tocca il turno della squadra di sinistra Andiamo a tirare questo rigore Scusate se sono un po' stortate le camera Qui abbiamo Osimen Tira in basso a sinistra ma non è proprio all'angoletto E questo angolo qui l'abbiamo coperto da Rui Patricio Quindi significa che è un altro rigore parato Ci troviamo ancora sullo 0-0 Ok ragazzi? Ancora sullo 0-0 Dopo due tiri per entrambi le squadre Andiamo con l'attaccante che è Correa Che tira qui in quest'angolo di tiro Che è un angolo di tiro abbastanza buono Ma è coperto da Shestini Quindi un altro rigore sbagliato per la squadra di destra Quindi niente di fatto Andiamo con la squadra di sinistra Che tira con Beto Beto ha un angolo in alto a sinistra E è scoperto È scoperto come vedete Il trattino questo di Beto È scoperto da Rui Patricio Quindi significa che La squadra di sinistra riesce finalmente a segnare Un calcio di rigore E va sull'1-0 Questa modalità io la trovo molto divertente Quasi più della modalità di gioco normale Quello che abbiamo visto con il campo da gioco Io la trovo molto interessante e bella da giocare È molto semplice ragazzi Andiamo con Buonaventura Che tira qui Io adesso senza vi faccio rivedere la carta di Shestini Ma è coperto quindi un altro errore Andiamo con Sielischi Che tira in alto a sinistra Non proprio angolato Ma è sempre lo stesso angolo di Beto Ed è scoperto da Rui Patricio Ed è 2-0 Per la squadra di sinistra Abbiamo l'ultimo tiro Ma già la partita è persa sul 2-0 Con Lukaku Che tira in quest'angolo qui E purtroppo per poco Ma è ancora coperto da Shestini Quindi 0 gol per la squadra di destra In 5 tiri Sulla squadra di sinistra Troviamo Spinazzola Che tira in quest'angolo qui E questo qui per poco Ma comunque è coperto da Rui Patricio Quindi significa che la squadra di sinistra Ha vinto 2-0 contro la squadra di destra Con i calci di rigore Spero che anche questa modalità di gioco Sia stata abbastanza chiara ragazzi Che vi sia piaciuta come modalità di gioco Perché diciamo che è una modalità di gioco Semplice e veloce Quindi che si può giocare in modo abbastanza semplice Fatemi sapere voi ragazzi Fatemi sapere voi che cosa ne pensate Schieto sotto nei commenti Mi raccomando ricordatevi di iscrivervi al gioco Se vi siete perso la prima parte del video Quella relativa al campo di gioco Per la spiegazione del gioco E train xl 2022 Andatevi a cercare sulla playlist il video O altrimenti ragazzi al termine del video Lo troverete nei video consigliati Quindi fatemi sapere Se l'avete visto Se lo volete andare a vedere Perché è una modalità di gioco molto interessante C'è anche il gioco online Per carità Questa è la vecchia maniera Ma la vecchia maniera Alla fine è bella Perché c'è il contatto con l'avversario Tu ce l'hai di fronte Puoi giocare col tuo amico Puoi giocare con tuo padre Con tua madre Con tua sorella Con tuo fratello Con chi cacchio ti pare a te Però ragazzi Ti puoi divertire Stando a contatto con una persona Perché è bello il gioco online Ragazzi Per carità Bellissimo È giusto giocarci Ma anche il contatto umano È molto molto importante Visto che si sta perdendo Un po' troppo in questo periodo Anche se Sembra strano Detto da uno che fa video Sulle piattaforme digitali È un po' una Una contraddizione Però ragazzi Ogni tanto Il contatto umano È importantissimo Quindi giocate con chi volete Anche così Con le carte Io vi saluto Ci vediamo nel prossimo video Ciao a tutti